2008 vorrei averle queste trombette a disposizione per la trasmissione che state ascoltando letture metropolitane su radio elettrica siete in diretta se state ascoltando radio elettrica state ascoltando radio elettrica in podcast forse se siete su spotify o altro 351 524 1101 perché marrakesh torna su radio elettrica vuoi dire radio elettrica un'altra volta nel caso non si fosse ben capito che siamo è programmatico è utile è tutto mi sto combattendo con instagram quindi lascia perdere ci sono cose più importanti legge un bel libro marragedon che cos'è il marragedon è la classica cosa una delle classiche cose che mi capita di portare qui come quando tornavi a casa tornavi a scuola da un weekend magari i tuoi genitori o con gli amici altri non i compagni di scuola facevi qualcosa di veramente veramente molto importante o comunque molto divertente e lo dovevi raccontare a tutti specialmente tutti quelli che non c'erano bene questo marragedon questa cosa è il marragedon che cos'è marrakesh abbiamo ascoltato badaboom cha cha album omonimo credo forse fosse il primo 2008 sì credo proprio di sì il primo album edito sì confermo 2008 ma che anno che è nata è forse una delle primissime volte che si vedeva un elefante varcare le strade di di milano e questa cosa veniva poi ripresa incisa su nastro che cose old e portate dentro un videoclip un videoclip rap su mtv sì di un di un rapper nuovo che era appunto marrakesh e possiamo dire dall'alto della nostra incompetenza comunque uno dei rapper che secondo me ha un maggiore capacità proprio pratiche insomma di gestione delle rime e non sono l'unica a dirlo ma soprattutto non sono diciamo io appunto sono incompetente ma un sacco di gente che ne capisce mi conferma questa cosa anche all'epoca me la confermava l'epoca in cui bazzicavo l'ambiente diciamo rapper salto temporale arriviamo all'oggi l'oggi è a ridosso anzi è a metà tra la prima data e la seconda data del marrageddon che è un festival marrageddon festival è un grandissimo concerto che se non sbaglio è iniziato alle 15 sì orario o 15 o 16 orario giovanissimo allora ingresso ore 13 apertura porte 14 e 30 primo primo set alle 4 ultimo set proprio di marrakesh con addirittura un pingue segmento dedicato a santeria ma dopo ci ritorniamo fine concerto ore 24 quindi un mi sembra una cosa estremamente come dire civile allora gli orari estremamente civili è stato voi che fate i concerti che cominciano alle 22 oltre a infatti vi prenderei a pizze in faccia perché a un certo punto queste cose non sono più sostenibili proprio dalla popolazione da me soprattutto cercate un po anche di ragionare da questo punto di vista cioè può essere che le cose nel resto del mondo molti concerti cominciano alle sette sarebbe quanto civile quanto tu prima dicevi che marrakesh è un uno che ci sa fare con le rime con le parole ma anche a livello proprio tecnico comunque organizzativo leggo disagi per il fango ora questo non si si tra l'altro appunto perché benissimo vedo delle simpatiche foto di mota per terra per quanto voglio dire forse è una cosa che loro conoscono poco ma se abiti a roma dopo cinque minuti che piove siamo tutti così quindi ma ci saremmo neanche sconvolti più di tanto questa puntualizzazione che potrebbe banalmente far pensare al cambiamento climatico anche ai più barbuti dei giornalisti però ci porta anche ci avvicina anche a una dimensione woodstockiana del dell'evento perché appunto è stato un festival un festival che si è tenuto a milano e si terrà a napoli quindi non è un doppio concerto la data x la data y di del tour gigantesco e ipertrofico di marrakesh no c'è stato veramente una woodstock dell'hip hop la woodstock dell'hip hop italiano c'era con un singolo biglietto che tra l'altro è degno di nota anche la formula perché sto dando questi quanto costava allora il biglietto base sia a napoli che a milano è costato 49 euro poteva andare molto peggio per vedere un set di mezz'ora si può anche acquistare si poteva anche perché sono andati tutte e due esauriti le date tutte e due in ipodromi quindi non posticini piccolini entrambe le date a 79 euro ok allora dicevo sto parlando ad un pubblico ma anche a me stesso che non dico la stragrande maggioranza però non conosco tutte le persone in line up tutti gli artisti tutte le artiste tra l'altro c'è anche pluralità di voci cosa molto interessante e finalmente sul sul palco più alto della dell'evento ovviamente il l'apertura quella con il sole alto nel cielo era dedicata la riservata a due set di dj esattamente c'era la parte di radio dj m2o con wad che appunto erano partner sono di quelle di quelle parte poi c'era dj taiwan contro dj zac per un set dedicato ai 50 anni degli hip hop mondiali e poi piccoli set sempre in progressione sempre più alti kid yuji non lo conosco però voglio approfondire miles suonava kid yuji e miles hanno suonato circa mezz'ora anna che recentemente abbiamo anche sentito nella colonna sonora di fest x per dire sì sì ok bendo sopra il booster ma ne ha fatte altre dopo immagino ha suonato per 25 minuti quindi sì quindi sì pachi che è una una novità per noi un po fuori dal target shiva che tra l'altro ha avuto anche dei problemi audio diciamo fabri fibra un set molto interessante di un'ora e un altro set da un'ora per salmo alla fine marrakesh ha suonato dalle 21 e 10 fino a mezzanotte quindi un onesto al prezzo di un biglietto vedevi praticamente il pantheon o comunque ti facevi sicuramente un'idea certo magari non volevi stare dalle 4 del mattina anzi dal dalla mattina alla sera in piedi esatto fabrizio c'è gente che lo fa comunque e vanno alla vanno a vedere cioè si mettono in fila e aspettano alla fine almeno ti intrattieni da da luna in poi giustamente fabrizio reattivissimo su su whatsapp diceva io ho pagato 49 euro per vedere i pinguini tattici nucleari al campo volo di reggio emilia da lontanissimo e ci ho guarniato anche il raffreddore ecco appunto ma appunto in tutto insieme in una delle due date perché ci sarà un'altra versione un'altra data napoletana con altrettanta buona rappresentanza della scena che appunto per quanto mi riguarda è ancora più interessante nella parte che non conosco sì c'è veramente al prezzo insomma una buona iniziativa un condensato incredibile una cosa intelligente che va a raccogliere un pubblico che è il pubblico del rap dell'hip hop che è un pubblico giovane anche giovanissimo e mi sembra comunque una cosa una cosa buona per me appunto qualsiasi passione per la musica vale a qualsiasi età se può essere coltivata che può diventare insomma una una parte della propria vita l'altro possiamo dire che ci sono anche cose veramente interessanti e importanti cioè andarsi a sentire dalle sette in poi un fab di fibra salmo e marrakesh in fila voglio dire ci andrei pure io li pagherei 50 euro senza problemi guepechenio c'è anche guepechenio vabbè guepechenio dipende piace o non piace a me non dispiace però dipende insomma dai gusti però sono quattro in mezzo ci sono state una serie di collaborazioni mi sembra veramente una cosa bella io ci sarei andata è stata veramente una festa avere la forza ci sarei andata è stato molto interessante anche vederlo da fuori perché io non avevo la possibilità di raggiungere Milano e non avrò la possibilità di raggiungere Napoli ma visto il sold out e vista anche la risma ma sicuramente a Napoli ci saranno delle cose più autoctone immagino sì beh Giuliette sicuramente passerà non sono informato sulla non voglio neanche spoilerarmela è già diffusa già si sa però devo dire che anche una persona completamente profana anche lontana però appunto che conosce e magari sospira quando si parla di Woodstock cioè un posto un festival dove ci stavano veramente tutta la scena o comunque grandissimi da conoscere vedere novità o sicurezze beh qui si è fatta una cosa molto simile è anche molto aggiornata ma anche molto istruttiva perché sorprendente anche perché per esempio il set di Fabri Fibra è stato impostato in una maniera molto interessante è probabilmente anche il sintomo di quello che è Fabri Fibra in questo momento tra l'altro Fibra se state ascoltando la diretta di Radio Elettrica suonerà oggi a Roma all'auditorio ed è l'ultima data di un lungo tour Fabri Fibra ha impostato il suo set di un'oretta proprio nel come fosse un quiz show vediamo quanti brani conoscete ah no innanzitutto una memoria incredibile non ha mai degnato di uno sguardo mai il gobbo non aveva il gobbo aveva semplicemente la scaletta dei brani che gli venivano suggeriti da a schermo grande dialogo con il pubblico e di volta in volta ha iniziato l'esibizione con brani un pochino più noti e poi è piano piano vediamo se questa la cantate e andava un po' più indietro nel tempo quindi sì perché dobbiamo pensare che per parte di quel pubblico Fabri Fibra è vecchio nel senso vecchio proprio anagraficamente vogliamo fare un siamo quasi sui 50 sui 50 forse ce li ha forse no ma stiamo pelo ci sta arrivando e comunque ha avuto diciamo il boom leggermente forse prima di Marrakesh anzi un po' prima di Marrakesh sì e quindi comunque se già Marrakesh è uno dei grandi di età Fabri Fibra rischia per alcuni di loro di essere ancora più grande se non fosse che poi intelligentemente negli ultimi anni ha fatto varie collaborazioni anche con artisti molto nuovi in modo tale da andare anche diciamo con artisti molto pop secondo me per andarsi un po' a per andare a toccare quel pubblico giovane no beh ovviamente il pubblico è quello lì che ascolta quella musica e quindi giustamente in maniera anche intelligente c'è l'interesse ad andare da quelle parti ma appunto c'è stato un gran bel dialogo anche molto divertente molto divertito Salmo invece l'ora dopo ne ho parlato più di una volta Salmo l'ho visto più di una volta in concerto sono forse posso definirmi fan è stato un'estate un po' complicata per il rapper Sardo ha avuto diversi problemi di salute ma nella set nel concerto c'è stato forse un un regalino in più perché è comparso il il papa romano ah sì ok ok come Dio santo Noiz Narcos non si può dire santo e Noiz Narcos fresco di paternità auguri Noiz di paternità e fresco di una creazione di una linea di vestiti nel suo propaganda per ragazzini e ragazzine dagli 8 ai 14 anni con una mossa di marketing estremamente intelligente Noiz Narcos e Salmo hanno duettato e hanno fatto due pezzi insieme mic check dall'album Noiz Narcos e un altro che si chiama Respira e che ausa come base e come campione principale Breathe dei Prodigy quindi stiamo già portando spero curiosità per per gli ascoltatori di Radio Elettrica che appunto non non masticano questa musica che poi lo dici tu magari appunto magari mi sbaglio fatemelo sapere al 351-5241-101 questa collaborazione qualcuno qualcuna tante voci anche Noiz nell'ultimo post che ha messo su Instagram fa velatamente rivedere qualcosa di futuro speriamo che questo futuro sia ricco di un magari un disco insieme come appunto Gue e Marra hanno fatto Santeria che ne so Salmo e Noiz Narcos potrebbero fare un disco nuovo chissà intanto Respira è forse il primo singolo è un bel pezzo ma soprattutto fa molto molto ben sperare il fatto che appunto usi i Prodigy come base vado veloce vado veloce perché il il set di Marrakesh è stato molto molto lungo molto denso torno a fare un parallelo con qualcosa di più nostro tra virgolette il set di Marrakesh mi ha dato la stessa impressione del concerto che ho visto dei Cure non finivano mai di suonare ora e mezza ok dai bravissima ammazza che set che scaletta fantastico c'era ancora un'altra parte di concerto tre ore tre ore e mezza non finivano mai i Cure all'epoca Marrakesh ha fatto la stessa cosa se la godeva veramente tantissimo dal palco ho fatto tre ore ha fatto tre ore ha fatto tre ore ha fatto tre ore insieme anche una bella parte con Guè pure lui ha affrontato e raccontato tutta la sua carriera artistica con una ricchezza innanzitutto di scenografia di produzione veramente notevole le produzioni molto spesso si parla di quanto sono sgherbati tra loro i rapper si odiano si dissano si dissano anche fa parte dello spettacolo mi fa sempre molto ridere sono anche un po' buffi però appunto sembra di bambini che si strattonano e vabbè magari sono anche è quella la parte del gioco il traslato che si porta nel 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 gioco del rap stringiamo che tra poco abbiamo la nostra ospite il discorso è appunto che questo Marrakedon è stata una cosa veramente molto bella da vedere sono molto contento di raccontarvela in tempo per farvela vedere di nuovo perché appunto il prossimo concerto ci sarà a Napoli è sold out quindi non possiamo né io né voi andarlo a vedere se non abbiamo già i biglietti ma come probabilmente è successo per Milano attraverso i social ma soprattutto attraverso Twitch luogo che ormai ha sposato completamente la ma la gente ci va ancora su Twitch perché ne sento parlare molto meno molto meno però ci sta non ci stanno eventi come questo e grandissime live grandissime dirette che come per esempio le dirette del Glastonbury che ti portano Glastonbury anche se non puoi lasciare il grande raccordo anulare stessa cosa per il Marrakedon di Milano c'è stata la possibilità di vederlo in diretta c'è stato a Milano il 28 anzi il 23 di settembre ci sarà il 30 di settembre a Napoli l'ippodromo di Agnano il Marrakedon veramente una cosa da recuperare è veramente un punto addirittura sul TG1 hanno detto allora allora accidenti una cosa veramente molto bella è successa a Milano e succederà di nuovo a Napoli Marrakedon di Marrakech abbiamo sentito prima il primo l'inizio e adesso Marrakech suona esattamente così l'inizio l'inizio